Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo face-to-face di Simple Beats. Oggi abbiamo con noi Simona Dagata Credit Specialist di 24 Max. Buongiorno. Buongiorno a te, ben trovata. Oggi parliamo appunto di 24 Max, una struttura particolare, una società di meditazione di credizia particolare, di proprietà di la capogruppo del Proxim, che è la titolare del marchio Remax, e la società di meditazione 24 Finance. Nasce con uno scopo specifico, che è quello di aiutare gli agenti immobiliari del gruppo Remax. Oggi parliamo invece di una peculiarità che abbiamo riscontrato che è quella di una grande presenza femminile all'interno della società. Intanto sappiamo che hai ricevuto anche dei premi per la tua produzione, oltre 3 milioni di erogato lo scorso anno, ti sei posizionata intorno al quindicesimo posto a livello nazionale. Raccontaci un po' di numeri all'interno della società, nel senso quanti siete, quante siete e quante sarete magari? Sei in crescita questo trend oppure sei stabile? La speranza è quella di crescere, quindi donne unitevi. Abbiamo una bella percentuale di colleghe, siamo decisamente sbilanciate dal punto di vista staff interno, quindi come sempre nelle società di mediazione è gran parte del back office rappresentato da donne, bravissime donne, capacissime donne dotate di tanta pazienza per lavorare con noi mediatori, però anche a livello colleghe, quindi per quanto riguarda la rete dei mediatori creditizi, c'è una bella componente femminile, diciamo che è abbastanza sbilanciata, stiamo intorno al 45-47% se non erro, nella fascia di età che rappresento, quindi purtroppo quella fra i 45 e i 54 anni. C'è un'altra bella componente femminile intorno al 30% nella fascia più giovane, 25-35 anni, probabilmente tutto questo è spinto dall'aiuto che la presenza dell'immobiliare ci dona. Spiegaci questa, nel senso che la cooperazione con il mondo immobiliare è più adatto alle donne? Allora, fermo restando che un po' dispiace il pensiero di stare sempre a sottolineare le donne rispetto agli uomini, sono di più, sono di meno, sono uguali, ce la faranno ad avere questa uguaglianza, è sempre molto molto triste dover sempre rimarcare il fatto che fatichiamo per avere quella che speriamo un giorno sarà un'uguaglianza numerica, retributiva e quant'altro. Diciamo che gli agenti immobiliari oggi sono anche numericamente parlando importanti dal punto di vista femminile, ma storicamente sono con preponderanza maschile. Nel mio lavoro, io faccio questo lavoro da oltre 20 anni e la componente femminile è sempre stata minima, mi sono ritrovata in alcune società di mediazione nella piazza di Roma che è quella in cui lavoro ad essere sola. Sì, non l'abbiamo detto, lavori all'interno di un'agenzia, di un corner Remax, che è la Clever. La Remax Clever, sì. Ok, e tu lavori in questa, scusate un terrore, però insomma era importante ricordarlo perché non l'abbiamo detto all'inizio, stavi dicendo che all'interno dei vari corner ci sono le postazioni di consulenza del credito. Ogni agenzia Remax può avere, non tutte ce l'hanno ancora, ma possono avere, speriamo abbiano presto tutte un corner dedicato alla mediazione creditizia, quindi ci sono dei colleghi che fanno il mio stesso lavoro, che hanno la loro postazione all'interno di una Remax e in questa postazione danno quello che è un servizio di consulenza a tutto tondo, quindi non solo mutui, ma anche quello che serve a livello di finanziamenti, prestiti, gestione del quinto, per aiutare i clienti a finalizzare quello che per l'immobiliare è importante, quindi l'acquisto della casa. Quindi il nostro lavoro è agevolato in questo senso dall'essere all'interno di un'agenzia immobiliare, perché ovviamente tutti i clienti che entrano stanno cercando quella che è la prima, la seconda casa o comunque qualcosa che li aiuti a collocarsi in nuova. Questo è un po' un carattere distintivo di 24 Max, voi siete molto stanziali, la vostra presenza all'interno non è di passaggio come spesso accade, ma siete fisicamente lì. Siamo fisicamente lì ed è quella la caratteristica basilare, essenziale e secondo me vincente della 24 Max all'interno delle Remax, perché è abbastanza facile per una società di mediazione fare un accordo a livello nazionale anche con delle realtà immobiliari, però un conto è collaborare con delle strutture immobiliari, un conto è essere proprietari o comproprietari o comunque avere una commistione fra l'immobiliare e il creditizio. Io come altri colleghi sono anche azionista della 24 Max, quindi mi sento in quota parte coinvolta e quindi interessata a che il progetto vada sempre meglio. Sicuramente è un progetto vincente perché, ripeto, da oltre vent'anni faccio questo lavoro e per la metà, più della metà del mio lavoro, del tempo che ho percorso in questo ambito, ho girato come una trottola come fanno tutti i miei colleghi, perché il lavoro del mediatore del credito è quello di finanziare quanti più clienti possibili, i clienti stanno tendenzialmente all'interno delle agenzie immobiliari, quindi il nostro lavoro è sempre stato quello di girare per tutte le agenzie immobiliari di Roma, da Roma Sud, da Roma Nord, questo, questo è tutto, alla ricerca del cliente perfetto. Dove serve? Esatto, del cliente perfetto. Lavorare all'interno della 24 Max ti permette di far venire a te i clienti in maniera più importante rispetto che in altre realtà, quindi perché 24 Max… Ci raccontavi anche fuori onda che in realtà poi non accogliete esclusivamente clienti dell'agenzia immobiliare, ma avendo quella postazione insomma c'è anche il cliente, chiamiamolo di passaggio, esterno, che comunque potete assistere tranquillamente. Allora, noi nello specifico con la Remax Clever abbiamo messo proprio una bella insegna 24 Max all'esterno con consulenza mutui, prestiti e cessioni per invogliare, la nostra è una realtà di quartiere, in realtà, gli agenti non hanno territorialità, quindi possono girare in tutta Roma e girano in tutta Roma, però avere un cartello che dice che finanziamo chiunque sicuramente è un volano per far avvicinare le persone. Io all'interno del mio corner in 24 Max, all'interno della Remax, vedo clienti di altre agenzie immobiliari, vedo clienti che non comprano tramite agenzie immobiliare, così come finanzio clienti che sono entrati per vedere delle case della Remax e poi comprano altrove, quindi in realtà il mio lavoro non è cambiato rispetto a quello che facevo nei vent'anni precedenti, visto che sono due anni quasi adesso che sono in 24 Max, è semplicemente stato agevolato, quindi sono più stanziale. E questa agevolazione, questa facoltà di potersi muovere molto meno potrebbe essere uno dei motivi per cui magari la donna sceglie 24 Max, piuttosto che un'altra. Allora, io posso parlare per me e io ho fatto questa scelta di campo, dicevo la parte importante di composizione femminile è proprio nella mia fascia d'età, io sono diventata mamma un po' tardi, ho fatto una scelta tardiva, consapevole e ho scelto quindi di focalizzare quella che era la mia attenzione sulla bimba che poi ho avuto e necessariamente non volendo e non potendo lasciare il lavoro ho cercato la soluzione migliore, lavorare nella 24 Max è una cosa che poi io ho chiesto, venendo da Finance ho chiesto di entrare in 24 Max per cercare appunto di agevolarmi di questi clienti che sarebbero entrati naturalmente in agenzia, quindi io credo che le donne nella mia fascia d'età che hanno ad oggi la necessità e il bisogno di conciliare quelle che sono le esigenze lavorative, quelle che sono le esigenze familiari, aggiungiamo le esigenze familiari delle famiglie d'origine perché nella mia fascia d'età chi ha l'opportunità di avere dei genitori tendenzialmente li deve accudire quindi diciamo che i ritmi di un'agenzia immobiliare, le modalità di lavoro all'interno di un'agenzia immobiliare sicuramente aiutano, ci permettono di poter avere il massimo dei clienti con il minimo sforzo, quindi forse diciamo che per una donna in un mercato come quello di Roma dove girare è comunque sempre caotico, porta via tantissimo tempo, è un buon modo per massimizzare, quindi lavoro comunque tante ore al giorno ma ne perdo molte meno nel girare la città, nel traffico, nello spostarmi da un'agenzia a un'altra, da un cliente ad un altro, quindi sicuramente quello aiuta, così come aiuta tanto i giovani, ora che siano uomini o siano donne. A proposito dei giovani, sfruttando anche un po' la tua esperienza di quando ero giovane, raccontaci quale opportunità ci sono ma soprattutto raccontaci anche quale sono state le tue difficoltà ad approcciare a questo mondo da neofita e insomma se quelle difficoltà magari nel tempo si sono un po' appianate o in 24 max c'è la soluzione? Allora, spero di sì, penso in quota parte di sì ed è il motivo per cui sono in max in questo momento, spero di rimanerci il più a lungo possibile. Le difficoltà che ho avuto io 22 anni fa sono decisamente diverse da quelle che possiamo riscontrare oggi perché il mercato è totalmente diverso. In vent'anni di attività è cambiato il mondo ed è cambiato più volte. In questo momento storico in cui stiamo vivendo la nostra professione soffre parecchio, soffre parecchio perché le banche hanno stretto tutte quante le maglie che potevano essere strette, perché l'erogazione del credito è sempre più difficile. Oggi rispetto a vent'anni fa c'è la meraviglia di poter lavorare con più banche contemporaneamente. Quando ho iniziato io non era permesso, lavoravo per una società che lavorava solo per una banca o era partecipata perché mi è capitato di lavorare in società partecipata in banca, ma solo con quella, quindi era molto difficile riuscire a dare una consulenza reale al cliente perché quando tu vendi il prodotto della banca fai solo quello. Quindi oggi per i neofiti è sicuramente molto più facile perché hanno un portafoglio prodotto da offrire importante. È difficile specializzarsi perché sapere bene il criterio del credito di 10 banche non è la stessa cosa che conoscere il criterio del credito di una singola banca. Quindi ci vuole molta più professionalità rispetto a vent'anni fa. Vent'anni fa si lavorava un po' più a braccio, c'erano meno controlli, c'erano meno fiscalismi ed è per questo che siamo ridotti come siamo ridotti. Però sicuramente la realtà di 24 Max può aiutare i giovani perché gli permette, stando all'interno di un'agenzia immobiliare, di avere un bacino di clienti che diversamente dovrebbero andare a cercare porta a porta. Quindi se oggi dovessi iniziare e in effetti la fascia di età dei giovani si avvicina diciamo in maniera abbastanza spontanea alla 24 Max perché l'idea di poter avere un X numero di agenti immobiliari che incontra a loro volta un tot di persone al giorno, quelli sono tutti per noi potenziali clienti. Per i giorni mi pare di ricordare c'è anche un percorso di affiancamento, formazione. La formazione è continua in 24 Max, è stata difficoltosa nel periodo del Covid perché l'abbiamo dovuta fare come tutti tramite Zoom, a distanza, la formazione però è importante. La cosa bella è che ultimamente, almeno in questi ultimi due anni in cui ci sono stata io e nella dimostrazione della prossima convention che avremo ad ottobre, viene unita a quella degli agenti Remax, quindi non sono più quelle convention o quelle occasioni formative in cui i mediatori del credito parlano di banche e di debiti e di finanziamenti in genere e l'agente Remax cerca di capire come sviluppare il territorio nell'immobiliare, ma è l'unione tra le due cose e ovvio che ognuno poi ha le sue specifiche aule di formazione, sono due cose diverse, però lavorando insieme, unendo i due settori è tutto è facilitato. Senti, giustamente abbiamo fatto un discorso non di genere sui giovani perché il percorso di ingresso è il medesimo, però da ragazza hai riscontrato delle difficoltà in più rispetto ai tuoi colleghi maschi oppure no? Allora, sarò una voce fuori dal campo, ma io ho sempre pensato che questo lavoro è perfetto per le donne, è difficile, è difficile qualunque professione che abbia una partita IVA, ok? Perché tendenzialmente l'idea della donna in avanti con gli anni è quella di avere più stabilità possibile, la maternità pagata, le ferie pagate, la malattia pagata, quando io a 25 anni ho detto a mia mamma che viene da una generazione di ministeriali, mamma apro la partita IVA, penso non abbia dormito per notti intere, non sapeva neanche cosa volesse dire, avere un commercialista e una partita IVA. Da 22 anni dico che ho fatto la scelta migliore che potessi fare, un po' perché caratterialmente non ero in grado di poter stare sotto orari, regole e padrone, come si dice, un po' perché obiettivamente dal punto di vista di soddisfazioni personali ed economiche è stato tutto un altro percorso, quindi ai giovani dico valutatelo, alle donne giovani dico è un gran bel settore, quando l'ho iniziato io era quasi prevalentemente maschile, quindi la difficoltà è stata come in tutti gli ambiti, quella di cercare di farsi riconoscere a pari professionalità, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, la donna deve faticare molto di più, se è una donna estroversa e mediamente carina se ne parla male, perché probabilmente se fa carriera c'è sempre dietro qualcuno che l'ha agevolata, quindi è stato decisamente più complicato definire le personali qualifiche, capacità e competenze, come sempre in tutti i lavori poi il tempo dà i suoi frutti, quindi se siamo ancora, io come tante altre colleghe ancora nel settore è perché le qualità c'erano, non è un lavoro facile perché è un lavoro in cui ogni giorno resetti e cominci da zero, io ho iniziato come promotore finanziario, l'ho fatto solo un anno, dopo che ho capito che era più facile per me dare i soldi che prenderli e gestirli, però è un lavoro che a differenza della promozione finanziaria che ti lascia comunque uno zoccolo diciamo di continuing, quindi di guadagno sul portafoglio che tu hai, il mio settore è un settore dove tu stipuli una pratica, punto zero, ricominci, quindi non ti puoi fermare. Per una donna non è facile perché ci sono delle fasi di vita in cui magari una donna vuole fare famiglia, vuole fare dei figli, io ho partorito mentre alla Verdone dicevo no no non mi disturba affatto e lavoravo e ho ringraziato il cielo di aver partorito di sabato così da avere il sabato e la domenica liberi per potermi dedicare, però è difficile, quindi è sicuramente complicato, tutti i lavori con una partita IVA al femminile sono più complicati, però lo consiglio. Benissimo, allora ti ringraziamo Simona per la tua testimonianza, per essere stata qui con noi, un bocca al lupo per la prossima convention, viva il lupo, si avvicina e a presto. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.